Ciao a tutti, oggi andiamo avanti con i lavori sulla nostra cigar box, come avete potuto vedere nell'episodio precedente, che se non avete visto vi invito a andare a vedere, abbiamo dato forma alla nostra chitarra facendo diciamo un lavoro più grosso, adesso ci sono tutti lavori un po' più di fino, dove avremo delle misure da rispettare, certi criteri per poter fare in modo che la nostra chitarra suoni alla perfezione. Niente, buona visione e ci vediamo dopo, ciao! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ora armandosi di pazienza con la lima bisognerà andare a creare questi scassi qua per poterci mettere il chiodo. e creare i tasti della nostra chitarra. Eccoci qua dopo qualche ora. Allora, siamo arrivati al punto che abbiamo fatto il manico, ora vi faccio vedere. Useremo un bullone da 17 per fare il ponticello. adesso in tutti questi scassi qua andremo a mettere dei chiodi per fare i tasti della nostra chitarra. Allora, fortunatamente abbiamo trovato una ballamanata di chiodi in acciaio, adesso andiamo a incollarli sul nostro manico e vi faccio vedere qua. questo è quello che dovremmo riuscire a ottenere. Una volta che ci sono incollati andremo a tagliare la punta e la testa per rendere tutto uniforme come il manico della chitarra. e 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 poi sul più bello salta la luce perché è finita la benzina del generatore. benzina dappertutto ma le cose precise le lasciamo fare agli altri a poco ci vediamo alla prossima ciao